Amplificatore vintage Scott A457 bellissimo, era da molto tempo che lo stavo cercando e non è stata una cosa facile poi ho avuto un colpo di fortuna e l'ho trovato veramente tenuto quasi immacolato ha qualche leggerissimo piccolo segno ed è molto difficile riuscire a trovarlo in queste condizioni perché stiamo parlando di un amplificatore vintage uscito sul mercato alla fine del 1977, primi del 1978 ha un prezzo al pubblico di ben oltre 300.000 lire, stiamo parlando di un prezzo di listino che era 310.000 lire calcoliamo che in quegli anni una cifra del genere era veramente importante pochi hanno avuto la possibilità di poterselo portare a casa Scott era in origine un marchio americano nato alla fine degli anni 40 che è in un periodo di attività tra gli anni 50 e 60 dove creava degli amplificatori valvolari e radio ricevitori in FM di notevole pregio tra l'altro anche molto innovativi per l'epoca che erano ancora oggi sono ricercati, erano quelli tenuti bene dei prezzi di mercato da tapogiro oltre al fatto che non se ne trovano praticamente quasi più la casa però arrivò fino ai primi degli anni 70 perché fallì perché non aveva i fondi per poter portare avanti la produzione e la progettazione su internet non ho trovato delle notizie molto precise che spiegassero bene l'evoluzione, la storia degli anni di questa casa mi pare di aver capito, poi se c'è qualche esperto che mi sa mandare qualche link o dire qualche notizia in più, che nei primi anni 70 quando la casa fallì l'acquistarono degli europei che poi non ho ben capito se la progettazione e la realizzazione poi veniva fatta in Giappone ho fatto ancora delle ricerche con gran difficoltà ho visto che fino al 2006-2009 qualcosina veniva ancora prodotto dove non lo sono comunque è un amplificatore parlando dell'aspetto estetico veramente molto molto bello e accattivante a questi maniglioni che ricordano un po' quei pre e finali che si usavano nelle discoteche molti anni fa che venivano accattastati uno sopra l'altro io ho avuto il piacere di utilizzare per un po' di tempo quando ho fatto il DJ per quanto riguarda l'aspetto sonoro di questo amplificatore non ve la vado a far ascoltare perché tanto qui su YouTube ci sono vari video che lo fanno vedere però nessuno che dà un giudizio personale di come suona questo amplificatore allora dai video che avevo visto non avevo sbagliato suona che è una meraviglia le mie aspettative sono andate oltre quelle che immaginavo calcoliamo cioè calcolate che io sono abituato a questo attenzione adesso riesco a piegarlo poco perché è un'asta comunque è un amplificatore Macintosh che è il Ferrari dell'audiofilia quindi di conseguenza il mio orecchio è raffinato quando ho attaccato questo a questo è un monitor audio che sono le casse che uso quotidianamente sono casse da 200 watt quindi necessitano di una bella corrente per farle suonare suonano anche senza picchiarci dentro più di tanto però non immaginavo che riuscisse a suonare così bene ha veramente una volta che si sono regolati a piacimento questi equalizzatori si riesce a raggiungere una dinamica un suono così caldo cristallino corposo che veramente non avrei mai immaginato è un amplificatore con una sua presenza veramente tonica gli strumenti sono tutti precisi ben scanditi ho visto anche che magari certi suoni che si sentono di solito magari in secondo piano non scappano sono ben evidenziati è un amplificatore che se associato a delle casse di un certo livello regala veramente delle grandi grandi e ottime emozioni sonore veramente non pensavo che arrivasse a questi livelli mi aveva detto che mi l'ha venduto che era uno dei più grandi rivali del Marans top dell'epoca adesso non mi ricordo il modello me l'ha detto io l'opinione personale che posso dire riguardante questo amplificatore e che insomma chi lo conosce sa quello che può dare è un amplificatore che quando è uscito probabilmente non ha avuto il merito che bisognava dargli ricordiamo però inoltre che comunque il costo che aveva non ha potuto essere venduto come altri apparati famosi tanto in voga in quegli anni ma anche se noi andassimo non dico se lo vedessimo esposto in un negozio non di audiofilia ma un mercatino avete presente quei mercatini di elettronica quei negozi di elettronica di usato dove tengono dei reparti dai fai ecco per spiegarci se io lo mettessi vicino a un Marans o un Denon o anche un Pioneer o un GVC di quegli anni è molto più facile che io venda un Marans che non uno Scott perché se lo vede un intenditore sa che cos'è e se lo porta a casa se lo vede uno che ha una passione generale per gli fai vintage e non lo conosce è più facile che si porti a casa un Marans perché magari qualcuno si dice ma cos'è cos'è lo Scott la marca di abbigliamento dei giubbotti cioè lì sono riuscito a farvi capire il nesso di quello che volevo dirvi e e niente insomma io veramente sono rimasto rimasto strabigliato e non mi ero sbagliato di quanto poteva dare questo amplificatore le recensioni che c'erano poche nei forum parlavano bene veramente oltre le aspettative consigliatissime che c'erano